Tutte cose della intro, grazie ragazzi, benissimo di Vitalia, sono Davide Giovanni e oggi siamo qui in un nuovo video in cui andremo a costruire una farm di zombie che ci permetterà di riparare i nostri strumenti in maniera efficace e veloce. Nello scorso episodio abbiamo costruito questa stalla che funziona piuttosto bene, è una stalla normalissima. Off camera cosa ho fatto? Ho fatto due cose, di cui una sono sicuro che l'avete già vista. La prima è che ho farmato delle vacche e la seconda cosa l'avrete sicuramente vista dal mio inventario, ovvero ho recuperato dalla Soul Sand dove non nel nether, perché voglio aspettare che arrivi la 1.16 anche su Bedrock per generare il nether, ma l'ho recuperato dal mare che abbiamo trovato durante la prima esplorazione. Bene, adesso andiamo a questo spawner di zombie. Gli strumenti che ci serviranno per andare a creare questo spawner di zombie sono questi qua che vedete nel mio inventario. Esatto, sono pochissimi, per l'esattezza ci servirà un bel po' di acqua, 24 scartelli, una Soul Sand e una Fence di qualunque materiale, può essere anche un Cobblestone Wall, non deve essere per forza una Fence. Per raggiungere lo spawner devo ricordarmi dove si trova, perché non me lo ricordo di preciso. Allora, intanto, segniamoci la strada, dovrebbe essere abbastanza in alto, se non sbaglio. Ragazzi, io sono salito di qua, sono andato dritto e dicevo di non trovare più lo spawner, perché era di lì lo spawner. Quindi, saltiamo qui, tagliamo anche sta Fence che sennò poi sarà in mezzo al cazzo per passare. Quindi, la mettiamo qui, che chiudiamo, ottimo, così non si può più passare di qui. Qui mettiamo una torcia, qui ne mettiamo un'altra e qui è il nostro spawner, ragazzi. Ta-da! Eccolo qua. Ovviamente gli oggetti che ci sono all'interno li ho già presi, ho già illuminato abbastanza bene tutto. E adesso bisognerà iniziare facendo subito un buco. Una volta che avremo scavato tutto quello che dovremmo scavare, ci ritroveremo con questo box, che sarà largo 9, lungo 9 e sarà alto, invece, 6 blocchi. Per l'esattezza, 3 verso il basso, quindi abbiamo, andiamo dei blocchi, 1, 2 e 3 blocchi di altezza tra lo spawner e il pavimento e solo 2, invece, rispetto al soffitto. Quindi, mantenete pure quello che aveva, l'altezza che aveva già il mob spawner prima, come pavimento. Una volta deciso il lato in cui farete andare gli zombie, dovrete fare due cose. Dal punto in cui, verso il punto in cui volete farmarli, quindi volete mettere la stazione di killing, dovete fare questo piccolo tunnel di 3 blocchi. Dall'altra parte, invece, dovete fare un'altra cosa e iniziare a mettere blocchi, in questo caso uso quelli che ho qui perché ho questa a disposizione, in questa maniera, per formare, diciamo, questa forma, questa specie di V. Dovete quindi arrivare fino a due blocchi dalla parete del mob spawner e andare poi in diagonale fino in fondo. E la stessa cosa va fatta anche da questa parte, quindi, due blocchi dalla fine del mob spawner, poi andate a mettere i blocchi in questa maniera. Questo cosa serve? Serve a far sì che l'acqua, che in questo momento piazzerò, ma dopo toglierò perché mi serve per fare la fonte di acqua infinita, portino gli zombie esattamente al centro, in quella posizione. Come vedete, loro confluiscono in qualunque punto si trovano esattamente lì. Fare l'acqua in altri modi, diciamo, disporare l'acqua in altri modi, potrebbe creare dei punti in cui si formano delle fonti di acqua che non defluiscono da nessuna parte e che quindi non porterebbero gli zombie in questo punto. Un altro dettaglio è che se volete rendere più veloce, perché come vedete adesso non è un gran che veloce, è il movimento che io in quanta entità faccio verso il tubo, ecco, se voi volete rendere più veloce questo movimento potete sostituire il pavimento della farm con dei blocchi di ghiaccio. Io vi consiglio di utilizzare il ghiaccio compatto perché altrimenti quello normale potrebbe sciogliersi. Scavato questo piccolo tunnel dovete poi fare un buco più profondo, qui, in questa maniera di tre blocchi. Poi cosa bisogna fare? Bisogna scavare ulteriormente in questo punto e qui posizionare una fence, mentre invece bisogna posizionare un blocco di soul sand in questo posto. Questo cosa serve? Beh, adesso ve lo faccio vedere rimettendo l'acqua in questa maniera. Capite anche come funzionano i mob spawner in generale e potete crearne anche voi senza dover avere bisogno ogni volta di un tutorial. Allora vi faccio subito vedere. Se noi posizioniamo di nuovo l'acqua in queste posizioni, quando lo zombie arriverà qui, cosa farà? Scenderà prima in questo blocco e poi cosa succede? Succede una cosa particolare. Come vedete io sono subito salito sulla soul sand. Ok? Allora, adesso dovete tenere in conto che il tunnel sarà largo 2. In questa parte qua ci sarà dell'acqua, da quest'altra parte qua ci saranno i cartelli. Cosa succede facendo questa cosa e mettendo la fence in questo posto? Succede che per l'acqua la fence è un blocco normale, alto come questo blocco qui che sto picchiando qua sotto. Ma per lo zombie in realtà è mezzo blocco più alto, quindi verrà trascinato e verrà sollevato dalla fence e sarà più facile quindi portarlo in questa posizione. Fatta questa operazione poi dovete scavare un blocco e questo sarà il blocco della parete e poi in questo punto qui dovete scavare quella che sarà poi la stazione di killing dei mob. Quindi in questo posto arriveranno i mob. Come vedete con questo modo di fare le farm siete estremamente vicini al mob spawner e ricordatevelo, è una cosa importante perché più siete vicini ai mob spawner più mob spawneranno, più vi allontanate e meno ne spawneranno. Questa cosa è molto importante, dovete tenerla sempre a mente. Quindi scavate un pochino di spazio, intanto i mob non cadranno tanto più avanti rispetto a come adesso e tenete ben presente che più sarete vicini a questa parete e più i mob spawneranno. Adesso bisogna scavare il tunnel, come vedete io mi trovo in una postazione più alta. Quando parlo di tunnel intendo quello che serve agli zombie per salire e poi cadere. Di preciso adesso stiamo parlando della sezione in cui salgono e che è larga 2. Come vedete qui ho messo una serie di scaffolding, per l'esattezza ho messo un pillar di 22 scaffolding. Quindi abbiamo un tunnel alto 22 blocchi più i 2 di corridoio. Quindi questi 2 blocchi qua in cui mi trovo io adesso non li ho contati. Quindi in tutto sarà alto 24 blocchi. Ricordate che dovete farlo largo 2, quindi dovete farlo una sezione che guarda... Ecco qua, siamo arrivati. Quindi ricordatevi che dovete fare un tunnel alto 22 blocchi sopra la fence e farlo largo 2, quindi fare altri 24 blocchi sopra il blocco di soul sand. Fatto quindi la parte che si alza del tunnel dobbiamo scavare, quindi una volta scavati entrambi i blocchi, 1, 2, 3, 4 blocchi in avanti e poi scavarne ancora un quinto davanti a cui andremo a mettere un cartello. Dove non ci scriveremo una ciola. E poi scenderemo. In questa maniera, se i calcoli sono corretti, dovremmo cadere esattamente dove vi ho detto. Se non ci fosse stato questo tunnel qui in mezzo ovviamente. E sono caduto un blocco più in là. Vabbè, comunque dai, ci sono arrivato vicino. Quindi si cade qui. Perfetto. In questo modo. Facendo così. Quindi, contando anche questo blocco più alto, i mob quando cadranno, prenderanno esattamente il danno che gli serve per poi venire uccisi dal nostro pugno. Perché noi abbiamo i pugni nelle mani, ricordatevelo sempre. Ovviamente poi il tunnel andrà chiuso in questa maniera, quindi così. In modo che ci sia solo un blocchetto d'altezza. Ovviamente voi potete fare il tunnel più alto in modo che quando i mob cadono muoiono sul colpo e farmate direttamente il loro drop. Però fate conto che questa farm serve anche, si può utilizzare anche, per raccogliere i livelli. Si tocca la parte più noiosa. Difatti, in questa posizione qui, andranno messi i 24 cartelli. E bisognerà farlo fino alla cima. Ah, un'altra cosa. In questo punto qui fate pure l'apertura grande di tre blocchi, di due blocchi. Quindi, allora, grande, uno, due, tre blocchi. Qua potete chiudere. Tanto gli zombie, qui l'acqua è molto bassa, quindi anche se gli zombie galleggiano, come vedete, entrano comunque. Arrivati a questo punto, l'ultimo cartello che dovrete mettere arriverà in questa posizione. Adesso bisogna fare l'altra parte tediosa, ovvero mettere l'acqua. Adesso, per testare la farm, sperate di avere dei piedini buoni, dei piedini con feather falling, perché è il momento di testarla. Allora, in teoria non dovremmo morire, dovremmo rimanere con un singolo cuore, se appunto fate questa cosa senza armatura. Ma adesso vediamo se la farm funziona. Ovviamente è un po' lenta, perché vi l'ho già detto come velocizzarla. Come vedete, gli zombie arrivano qua, vengono spinti dall'acqua che scorre, e arriveranno in questo buco, dove cadranno e si faranno un male cane, in teoria. Si arriva qua. Io non mi sono fatto una ciola, è vero, però io ho feather falling 4, ho l'armatura completa. Adesso potete chiudere tranquillamente questo buco qui, quindi potete togliere le torce, e la vostra farm, ragazzi, funziona. Guardate come gli stronzi salgono su, eh? Guardate adesso che sono finiti qui, e che adesso, tra poco, cadranno. E noi, con il nostro potentissimo pugno, perché noi abbiamo i pugni nelle mani, non li uccideremo con due pugni. Vabbè, basta abbassare tutto quanto di uno. Ragazzi, secondo me dove potevamo uscire, se non esattamente sotto il cazzo di fiume? Ma seriamente, ma poi un'altra cosa qui vicino alla piazza, ma che palle, che palle, che palle, che palle. Dov'è? Ho pure perso l'entrata, ditemi, cioè ma che palle, tocca spostare tutto quanto di un blocco più a destra, così. E dai. Vabbè, l'importante è che si possa uscire allo stato attuale, poi come, in che maniera, è un'altra cosa questa. Lo aggiusteremo in futuro. Bene ragazzi, oggi vi ho fatto vedere come fare una semplicissima e super efficiente farm di un po' di tutto, sia scheletrico che zombie. Ricordate che, se fate gli zombie, dovete farla un po' più bassa rispetto a quello che ho fatto io. E niente, vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Inoltre vi invito anche a attivare la campanella delle notifiche, se non l'avete ancora fatto, e a pregare la betulla per far sì che io possa trovare, per far sì che questo update del nether esca un po' prima, visto che ci sta mettendo davvero una vita ad uscire. E io non ne posso più di aspettare a generare questo cazzo di nether. Grazie a tutti.